La parola al nostro segretario regionale Vinicio Peruffo. Grazie a tutti per la presenza e anche per la pazienza della gestione organizzativa. Voglio innanzitutto associarmi ai ringraziamenti che faceva Federico Gummeroni all'inizio per la presenza di ciascuno di voi qui, qui nella sala, nel primo rispetto delle normative Covid e quanti sono collegati, tutte le altre forze politiche. Mi permetto solo di fare un ringraziamento ad una persona che ho visto che è in sala, che volevo ringraziare e credo di interpretare il pensiero di ciascuno di voi, ringraziandolo per la presenza e dando un grosso abbraccio a Simone Luchetti. Grazie a tutti.